il 2022 è l'anno in cui inizia la mission del blog snl sport news law and management frutto di una convenzione tra il dipartimento di scienze giuridiche dell'università di lecce e la casa editrice quaderni del bardo edizioni lo scopo del blog è quello di conoscere in pillole il diritto dello sport dotando il corso di laurea in diritto e management dello sport di uno strumento di supporto all'offerta didattica che sarà utilizzabile dai suoi studenti come opportunità di tirocinio tutte le informazioni e i link nell'info box di questo video